Francesco Calgiulo, ci hanno detto che sei uno dei migliori in Italia, non solo. Eh, in Europa, mi diverto. Ma per che cosa? Che stai facendo? Corse su internet con vari simulatori. E qui hanno attività, come si chiama diciamo esattamente? Eh, sono campionati già. L'ultimo campionato che hai fatto? È il campionato di granulismo, che diciamo che è il simulatore più famoso che c'è. Che ci sta, diciamo, come partecipare? Il simulatore è il simulatore, chi gioca sia con la Playstation oppure con i computer. E da quanti anni c'è questa passione? Ah, vabbè, da quando avevo 5 anni. Da quando avevi 5 anni, ora quant'anni c'hai? Eh, ora 36. Quindi praticamente... Ho fatto 30 anni su internet. Dove giochi? C'è la linea come la trovi qua? C'è una linea... Ah, ci sono le hobby fatte apposta per la categoria tua. Sì, no, se non avessi a finire... E come i tornei di un'intera ricettiva? Ci sono i ranking e tu sei in quel settore lì. E uno ti può seguire? Come si fa per seguirti? È una cosa interna, diciamo? No, diciamo, si può accedere tramite internet e vedere tutti i risultati. Settaturismo.com E in consigliere c'è qualcosa o niente? In che senso? In consigliere Amalfitano. Altri cani con la tua passione, Amalfitanzo, Trentina... No, lo so, diciamo, è una cosa individuale. E tu stai continuando a far segare? Sì. E va andate pure fuori, va andate a confrontare anche fuori, diciamo... No, io sono tutte cose... Posso competere con giapponesi, tedeschi, ulesi, francesi... Tutti in una... Al mondo chi sono i più forti? Eh, diciamo, come nella realtà, tedeschi, italiano e francesi... Sato là... Eh, come nella realtà... Va bene, complimenti a loro, dai bocca a loro, ciao!